Ciao ragazzi, benvenuti in questo video del canale, oggi ragazzi siamo qui con un nuovissimo video Oggi ragazzi è il terzo video, quest'oggi, l'ho detto che faccio un altro video E abbiamo il quinto episodio dei voti ai tutti i giocatori Concorrente in corso, l'Atalanta di Gasperini, piano pazzesco, c'è il Pesoli che pazzesca Stortata la Coppa Italia un po' sfumata Non perdiamoci in chiacchiere, primo giocatore, Raffaele Toroi, 6 Non sei politico, fa quello che deve fare, qualche sbaffatore di vita ci sta tutta però, 6 Passiamo al giocatore, ragazzi Gollini, per Luigi Gollini ragazzi, portiere Che sta facendo veramente molto bene, ci sono tutte le parate Tutte ci sono le parate In mezzo di Toroi, continuiamo diciamo così a fare Marco Sportiello, prossimo giocatore, portiere ragazzi Marco Sportiello senza voto, è un senza voto così per un secondo portiere che gioca La Champions League di ritorno con Valencia, subisce anche 3 gol Quindi gioca penso contro il Verone e subisce 2 gol Non è che, non è che ne subisce poco di gol Continuiamo senza voto, sono anche molto buono con lui Palomino ragazzi, Palomino sbaglia molte cose Molte di loro li ha fatti con la Roma, si è riscattato col gol 6 e mezzo ci sta, avevo fatto un po' ingannate Però, qualche cosa sbaglia, anche molto Robin Gosens, 6 e mezzo anche Gosens Politico, tedesco Un 6 e mezzo politico ci sta tutto Il mio voto massimo è 7 e mezzo 8, non so, non mi ricordo Al Miriam forse, Ternandez, no 7 e mezzo No no, 8 ai Brahim che ci ha votato ragazzi 8, 8 e mezzo, non mi ricordo 7 e mezzo a Gosens Robert Jim City ragazzi Jim City, grande albanese L'esperienza c'è poca Perché non è giovanissimo, non penso che sia giovanissimo Però l'esperienza ce n'è davvero poca Vediamo se Questa Prossima stazione farà di meglio ragazzi Vediamo subito Per ora ragazzi, ci sta tutto Un 6 e mezzo Prossimo giocatore O anche calciatore Avviene Atebur Atebur ragazzi Atebur, altro Difensore di lusso Atebur Che fa due gol al Valencia L'andato a San Siro Gli ottavi di finale Fa due bellissimi gol al Valencia Diciamo, manda quasi a casa la squadra Ter Valencia E ragazzi, 7 Questo qui ragazzi È più di cose Non so perché Ma a cosa mi è piaciuto di meno Poi ragazzi, prossimo giocatore Calciatore Castagne 6 e mezzo Non mi è piaciuto quest'anno Castagne Ha salvato la Valentina Ha salvato la lanta contro la Valentina Volevo dire Mi è venuto il contrario 6 e mezzo Politico Ci sta tutto Passiamo a calciatore Eccolo qui Non è male Non è male come difensore 7 Ma con lui 7 Perché l'esperienza ce l'ha È del 91 Ce l'ha tutta l'esperienza Ed è anche Non è benedente male Pasaric Marco Pasaric Ax Milan 7 Anche lui strepitoso Un gol con la Roma Strepitoso ragazzi Ma anche altre moltissime giocate Adesso Adesso cito Quella con la Roma Perché comunque Grande Un gol è stato Malinowski Anche lui Grandissimo prospetto 7 anche per lui Fu un gol pazzesco Contro la Valentina All'89 Mi ha fatto vedere giù Veramente con la partita L'ho vista in diretta Cosa di lavoroso ragazzi 7 anche per Malinowski Papu Gomez 7 e mezzo Per il Papu Mezzo di più di Pasaric Di Malinowski Sì Il Papu è forte Non c'è da lì niente Ma deve sicuramente Gli avere l'8 e mezzo Pensavo che arrivava Almeno l'8 Papu Gomez Invece 7 e mezzo Che è un bellissimo voto Comunque però Ilicic Ilici Non posso che dare Gli ragazzi 9 9 ragazzi Ilici Sono anche buono Ilici Fa 4 col Valencia 1 2 all'andata Quindi fa 6 in totale Contro il Valencia In campionato anche Fa delle cose pazzesche Col Mian Tripletta Penso Col Parma Minkol Qualcosa di clamoroso Ragazzi Veramente Ci sbara Un giocatore Ragazzi Ci sbara Si chiama Senza voto Perché Non l'ho mai visto A fare cose belle Luis Muriel 7 Bravi Tripletta o tripletta Non mi ricordo Abbiamo già di campionato Con la spalla Paolo Mazza Poi Un po' così e così Ma Il club artista Ha fatto capire Che lui Non è per niente male Duvan Zapata 8 Assolutamente 8 Ragazzi Zapata Più del Papu Ci sta tutto Perché il Papu Quest'anno Sia un bellissimo Campionato Però Pecca sicuramente È meglio Quello di Zapata Poi Traore Senza voto Senza voto Per Traore E Francesco Rossi Senza voto Gasperini Ragazzi 8 Perché È un grandissimo Allenatore Comunque ragazzi Se vi vi è piaciuto Lasciate un mi piace Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Al prossimo video Bella ragazzi Secondo like È il prossimo episodio Bella